Benvenuti picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video delle cose assurde da discoteca Prima di iniziare a dire qualsiasi cosa guardate la location in cui sto registrando questo video Sono in città alta, sono in posa pranzo e ho detto vabbè registriamolo qua Ultima cosa da dire prima che inizi il video che se mi vedete con lo scaldacollo anche se c'è il sole Ho, sono mezze maniche praticamente, sentite ogni tanto la voce un attimo strana o nasale E perché ho un raffreddore e mal di gola e anche per questo che sto registrando questo video Praticamente lunedì pomeriggio, quando esce il martedì pomeriggio, però va bene Come già vi avevo detto lo scorso video, essendo diminuite le serate che faccio in discoteca Perché appunto sta aperta me nella discoteca, farò questo genere di video una volta ogni due settimane Non più una volta a settimana, però le cose da dire sono comunque parecchie Partiamo con una delle cose che ormai è diventata routine per me Che è dormire due ore in tutto il weekend Infatti io lavoro venerdì notte, poi sabato mattina sono in negozio a lavorare Per poi finire, poi sabato sera poi vado in discoteca a lavorare Finisco la mattina e quindi io dormo due ore in tutto il weekend Ci sta quello Iniziamo con le cose assurde effettive La prima è che c'era uno che aveva qua sul braccio il tatuaggio del serpente di Gucci Qua dietro il collo il tatuaggio della macete crew E poi aveva un altro tatuaggio, non mi ricordo di che marca sia Però ho detto che erano passioni Tanto io vorrei farvi vedere quanto sono sul bordo per poi cadere giù di sotto Non so se rendo l'idea della pericolosità Nel video faccio pericoloso Un'altra cosa che è successa è che uno si era venuto a lamentare di quei parcheggiatori che butta fuori perché gli avevano rotto il vetro di una macchina Della sua macchina gli avevano poi anche rubato le cose che aveva dentro Solo che era ubriaco marcio C'era sì una ragazza, una sua amica lì con lui che lei capiva ed era abbastanza a posto Ma lui era completamente marcio Non riusciva a fare una frase di senso compiuto Ha parlato 5 minuti con una premessa dicendo posso fare una domanda Il problema è che la domanda poi dopo 5 minuti che parlava non l'ha fatta Ha parlato, ha spiegato cosetto In 5 minuti ha detto sempre le stesse cose Avrei usato 5 parole diverse Alla fine non ha fatto la domanda Noi stiamo ancora aspettando quella domanda Una cosa assurda che successe è che io il sabato ho bevuto 4 Red Bull in 10 ore 3 la sera in discoteca e una il pomeriggio Sono arrivato poi sabato sera dopo aver lavorato Che non avevo sonno, ero iperattivo Mi sono messo a guardare una serie tv dopo che sono stato sveglio per 40 ore di fila Dormendone solamente una e mezzo Cioè per dirvi quanto ero malato E infatti un po' le poche ore di sonno, un po' tutto il resto Sono qua influenzato col mal di gola Praticamente è venuto dove lavoro io Drefgold, non so chi lo conosca ma penso che comunque per averlo sentito lo conoscono tutti Ho facciato anche la Fodossia Null l'ha fatto, l'abbiamo invitato come ospite Era un po' che non invitavamo ospiti Aveva ovvio, a parte la Dark Polo Gang ma quello è uno school party E non fa riferimento ma Come serate non school party Era un po' che non invitavamo ospiti E abbiamo invitato proprio lui E, signore e signori, sabato 27 Festa delle scuole o school party, chiamate come volete Con la Sugo Gang Mambolosco In discoteca dove lavoro io Poi, praticamente, il sabato appena passato Appena abbiamo aperto 5 minuti dopo l'apertura io e un altro siamo dovuti andare con una cassa di ghiaccio al bar che c'è vicino La discoteca dove lavoro per portargli una cassa di ghiaccio Quindi noi siamo usciti in mezzo al casino, in mezzo ai ragazzi che erano in coda, in mezzo alla gente Con un carrello sopra una cassa di ghiaccio a portargli dal bar a fianco E, boh, non l'avevo mai fatto E ci stai perché poi alla fine Dato che c'è un casino assurdo Tu sei in mezzo alla strada col carrello E stai in mezzo alla strada Con quel carrello e sopra la cassa del ghiaccio E le macchine che ti guardano malissimo La gente che ti guarda malissimo Tutti che ti guardano veramente malissimo Allora, le cose assurde, le cose da raccontare sono finite Solamente per la location Andate a lasciare un sacco di mi piace E, nulla, io vi ringrazio per la visione Fate like se il video vi è piaciuto Commentate, iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E noi ci rivediamo ad un prossimo video Bella